Aveva preso parte all'assalto da Far West ad un portavalori in piena luce del giorno e davanti a diversi testimoni nel cuore di Corso dei Mille in prossimità dell'ufficio postale, al quale era destinato il carico ben 100.000 euro in banconote, riuscendo però a dileguarsi a differenza dei suoi complici. E' stato arrestato questa mattina ad oltre un anno dai fatti il quarto componente della banda. Si tratta di Giusto Lobocchiaro, figlio del boss di Santa Maria di Gesù, Giuseppe Lobocchiaro, condannato a 20 anni per mafia e distorsione. Le indagini della sezione antirapina della squadra mobile di Palermo sono riuscite, attraverso le immagini di videosorveglianza e le rivelazioni dei testimoni oculari, a risalire all'identità dell'ultimo dei malviventi che quel giorno, il primo agosto 2015, terrorizzarono a Corso dei Mille. Uno di loro fu colto in flagranza di reato e subito arrestato, altri due furono rintracciati poco dopo. Lobocchiaro, 42enne palermitano originario del quartiere Falso Miele, vantaggia un'ordinanza di sorveglianza speciale risalente al 2014 e un precedente arresto nel 2006 nell'ambito di un'operazione antimafia e di contrasto al racket delle estorsioni, principale business della cosca mafiosa.